In premessa, parto da lei, PD 5 Stelle in questo momento quanto sono vicini e quanto Renzi è il terzo incomodo? Faccia un quadretto per Rosato. No, ma Rosato il quadretto ce l'ha molto più chiaro di me, infatti ha dovuto dire sto benissimo, ha dovuto ribadirlo proprio per questo. Cioè lo ricorda a se stesso tutte le mattine. Il dramma è questo, che sono lì a rimandare tutto perché hanno il terrore di una resa dei conti, sono molto peggio del governo giallo-verde, giallo-blu che dir si voglia, perché sono costretti a stare insieme perché altrimenti se si va a votare è il disastro, però se poi tutte le questioni sono divisi e sono lontani. Tutti e tre, sia Italia Viva che 5 Stelle che Partito Democratico. Quindi continuano a rinviare, non hanno una posizione chiara su quasi nulla e questo è il dramma, vero.